Ecco sui monti i passi di un messaggero che annuncia la pace, uno dei motivi per cui il formulario della messa che adopero questa sera è l'evangelizzazione dei popoli, perché la pace da dove viene? E il Vangelo, che vuol dire buona notizia, la parola Vangelo, non fa altro che mettere pace al cuore dell'uomo perché è quella buona notizia che ti fa leggere, riconoscere, decodificare in quello che accade una presenza diversa. Ti dà un cuore diverso, è per questo che riesci a vedere le cose diversamente e ti rendi anche conto di una bellezza che normalmente trascuriamo, trascuriamo, perché la nostra attenzione è su altro. E il resto della lettura di Inaum, avete notato, assomiglia un po' a Beirut, una devastazione. Solo il pensare fa venire il magone, perché che cosa sia successo noi non lo sappiamo come motivazione, ma quello che sappiamo è che c'è una devastazione. Allora, davanti alla devastazione, oltre che la commozione e anche la solidarietà, non è che altri strumenti, altrimenti dobbiamo rimuovere. L'altro metodo è rimuovere dalla testa i motivi che ti fanno star male. E questo lo possiamo fare continuamente, anche con il tuo vicino. Lo possiamo rimuovere, cioè non lo considero. E poi ti trovi Gesù che ti invita a vivere da discepolo. Cioè, proprio accogliendo questa buona notizia, tu ti metti nella sequela. Se, è un'ipotesi, se qualcuno, perché non saranno tanti, ma se qualcuno vuole venire dietro a me, deve sapere che il suo egoismo lo deve rinnegare. Se, vuole, perché se non vuole sappiamo già che cosa succede, almeno in una piccola parte, perché seguendo l'egoismo normalmente noi non sappiamo fin dove ci possa portare. Perché sappiamo che avremo delle difficoltà, ma mi permetto di dire, innanzitutto con Dio, cioè con il suo spirito. Perché nell'egoismo non trova posto in noi, non gli facciamo posto. Tant'è che la preghiera spesso è un cercare di convertire Dio al mio egoismo. Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce. Seguirlo vuol dire questo, cioè percorrere la vita in quella disponibilità del cuore ad amare come Lui ha amato. Questo vuol dire seguirlo. E così sentiremo che perderemo alcune cose, ma ne troveremo delle altre. E questa è l'esperienza nuova. Finché abbiamo le mani e il cuore occupato nel nostro egoismo, non avremo cuore e mani da riempire nella comunione. Non ce l'avremo. Saremo già occupati. Allora, questo è il programma. Beh, c'è una promessa in questo, che siccome sta per venire, dice, nella gloria il figlio dell'uomo, e alcuni lo vedranno, alcuni dei presenti non moriranno prima di aver visto venire il figlio dell'uomo con il suo regno. Possiamo dire di chi si tratta. Facciamoci la domanda, ma di chi sta parlando? Perché uno dice, ma forse, non so, Pietro, Giovanni. A chi è capitata questa fortuna? A chi ha rinnegato se stesso, ha preso la sua croce e l'ha seguito. A quello succede di vedere finire il regno di Dio. Quindi è un po' un augurio, se volete. Dice, ma vabbè, capita ai santi. Quali santi? A quelli sull'altare? A quelli sotto l'altare? A quali santi? Capita a chi vive da discepolo. Perché la santità non è altro che la partecipazione della vita dell'uomo alla vita di Dio. E inizi ad avere ciò che è santo, lo spirito, dentro di te, che ti dà di vedere, di riconoscere che in quello, veramente la vita è piena. Allora, così chiudo, se il Vangelo è questa buona notizia, varrà la pena? Varrà la pena? Cioè, percorrere questa vita soltanto guardando dall'esterno, varrà la pena? Dice, no, dall'esterno? E' come andare fuori dal ristorante e dire quanti buoni profumi. Buono? Ti piace? Sì, e mangia. Ah! Allora, l'invito che il Signore ci fa non è soltanto sentirne il profumo. Apocalisse, capitolo terzo, versetto ventuno. Se qualcuno mi apre, io verrò, busserò. Se qualcuno mi apre, io entrerò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Ha detto. Perché questa è la comunione. L'ha detto. E lo fa. Allora, è bello avere i santi per amici. Sapere che queste persone hanno dato un consenso con la propria vita. Ma per sentire che non è che questi fossero dei supereroi, dei personaggi della Marvel o della Disney. Cioè, no, uomini come noi. Possibile. Allora, stupiamoci di quello che fa lo spirito. La conseguenza sarà il... Ok. Allora inizi a capire che la croce è un atto d'amore. E vivendo l'amore inizi a vedere il regno di Dio che viene. Mi fermo perché ho chiuso il cerchio. Spero che si sia capito. E credo che la vera chiusura sia un... Grazie, Signore. Perché accade. Grazie per la Tua fedeltà. Perché non soltanto ce l'hai raccontato, ce l'hai fatto vedere e ci hai dato tanti testimoni. La lettera alle ebrei dice un nugolo di testimoni, una nube. Inizia così il capitolo 12, no? Dopo, nel capitolo 11, ne ha narrati tanti testimoni della fede e al capitolo 12 dice che c'è con questa nube di testimoni che mi ha fatto vedere qual è l'itinerario, allora è possibile. Bene, buon cammino.